Ciao a tutti e benvenuti al primo TG interattivo di Genoa Forever 1893. Tutto pronto per il big match tra Genoa e Juventus in programma venerdì alle ore 20.45 allo stadio, Luigi Ferraris. La squadra di Mr. Gilardino arriva a questa partita, dopo aver perso immeritatamente a Monza con l'ennesimo gol subito nel finale. Nella compagine rosso-blu rientreranno Malinovski, dopo la squalifica, e soprattutto Bani Pedina importante della difesa, la sua assenza si è fatta sentire. La coppia d'attacco, sarà Retegui-Gudmundson, l'unico dubbio per Mr. Gilardino sarà tra Malinovski e Messias. A Genova arriva una Juventus Forte, seconda in classifica che sembra. Aver superato i problemi degli anni scorsi sarà una partita difficile, ma il Genoa ha dimostrato in questo campionato di sapersela giocare con tutte e soprattutto con le bighe. Con questa notizia vi saluto e vi aspetto al prossimo TG, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Ciao e Forza Genoa! Grazie a tutti!